Raga, 50 iscritti! Yeee! Vado a urlarlo fuori dal balcone! Urliamolo fuori dal balcone! Mannaggia! 50 iscritti! Yuuu! No vabbè ragazzi, ma scherziamo! Stiamo scherzando qua! 50 iscritti! C'è la metà, c'è mezzo, la metà di 100! Rendiamoci conto! Fino a qualche mese fa avevo aperto il canale e adesso siamo ai 50! Ai 50! C'è... Sono felicissimo, non so che cosa dire! C'è... Eee... Non so! E sono così contento perché è un traguardo! Oh! Non pensavo, ho detto... Sono partito con l'idea di aprire questo canale, ho detto apriamolo! Abbiamo cominciato con le cose di edicola, poi ci siamo poi voluti con vestite, outfit, unboxing, poi adesso con la natura, i regali di Pasqua, tutte ste robe varie, Siamo arrivati 50 iscritti! E... E neanche... E in meno di quanto? Meno di sei mesi? Meno di un anno? Sicuro? Meno di un anno? Sicurissimo! È tantissimo ragazzi! Sicuramente arriverà un altro speciale, un drum highlight, ve lo faccio! Questo era proprio spontaneo perché... Sono qua a casa di mio padre... Eee... Pasquetta l'ho passata con mio padre e... 50 iscritti, ma davvero? Dobbiamo fare un video così... Regali di Pasqua! Sì, esatto, esatto, come ha detto mia sorella... Proprio un bel regalo! Guarda... Sono contentissimo! È stato proprio un bel regalo! Non saprei come ringraziarvi! Muah, 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 muah! Vi dirò grazie, 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 moltiplicato per 50 volte perché è veramente una roba... È una roba veramente io, non lo so, sono contentissimo di questa cosa perché è un'emozione! È un'emozione! Proprio appena ho visto 50 iscritti ho detto non facciamo tutto l'organizzato... Facciamo un bel video reaction, come ce lo dice il cuore, come ce lo dice la nostra bella pancia... La nostra bella pancia... Nulla! Cioè... Adesso sono seduto qua per terra, però... È un'emozione, cavolo! È un'emozione! Speriamo anche adesso... Cioè, ragazzi, calcolate, per il mondo di YouTube 50 iscritti non saranno... Nessuno, però... Mettiamo 50 persone tutte in fila indiana o in riga... Cioè, sarebbero tantissime! C'è un esercito... Due classi di scuola... Comunque... Non so che cosa dire... Sicuramente domani o dopo pubblicherò un video... Draw my life, penso domani... Perché... Sono contentissimo, ragazzi... Il... Un traguardo... Prima avevamo fatto lo speciale 10 iscritti... Adesso lo speciale 50... Aspettiamo con lo speciale degli 80... Direi... O 70... Eh... Anche, anche, ha detto mia sorella... Anche... Anche i 100, sicuro... Niente, ragazzi... Siccome è la memoria che mi sta finendo... Nulla... Ci sentiamo... Un bacione... Io lo li ho bene... E... Triologia... La... 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 La...